Una vita di risparmi ci hanno tolto. Esattamente tre anni fa a Roma andava in scena la rabbia di azionisti e obbligazionisti subordinati, quelli traditi da Banca Marche, Banca Etruria, Carichieti e Carife, ovvero i quattro istituti bancari del decreto salvabanche che in una notte ha bruciato milioni di risparmi. Sotto a Montecitorio nel 2015, la rabbia che nel tempo ha lasciato il passo alla rassegnazione, a riaccendere una speranza la sentenza del ricorso pilota di un azionista, uno dei circa 45.000 assistito dal legale della Diconsum Diomede Pantaleoni. Il giudice di pace di Macerata ha infatti accolto il ricorso e ha stabilito che a risarcire sarà UBI, l'istituto subentrato alla defunta Banca Marche dopo il passaggio alla nuova BM. Col Belin c'è chi sostieneva e ancora sostiene che chi ha perduto le azioni non ha perso tutti i diritti. Secondo la più parte della magistratura invece è il contrario. Quando c'è stata una cessione d'azienda e quindi c'è stato ceduto un contratto, si perdono i diritti legati alle azioni in senso stretto, cioè quelli incorporati nelle azioni, ma il diritto all'esarcimento del danno non è nell'azione, è nel contratto che è passato a nuova Banca Marche e poi a UBI. Questa sentenza del giudice di pace di Macerata, che è la prima, in realtà ha fatto applicazione di quelli che sono i principi finora usciti da tutta la giurisprudenza, in particolare dall'arbitro per le controverse finanziarie presso la Consob, che ha detto in chiare lettere che è UBI che deve risarcire. Senz'altro UBI se perde una causa farà appello, ma diciamo è almeno un primo passo, un primo passo psicologico, perché la gran parte degli azionisti sono convinti che non c'era niente da fare. Non è così.